Quest'oggi noi presentiamo il bilancio di missione, che vuol dire rendere conto alle persone di cui ci sentiamo responsabili e verso le quali sentiamo una responsabilità dell'attività che abbiamo svolto nel 2017. L'attività che noi svolgiamo è un'attività dalla parte dei bambini, perché da oltre 70 anni ci prendiamo cura dei bambini e dei ragazzi disabili e per noi questo è il campo di azione della carità che ci è stata affidata dal nostro fondatore. Nello specifico qui a Cava dei Tirreni abbiamo appena iniziato un importante intervento per l'ampliamento della sede, un intervento che era atteso da tanto tempo dal territorio e dalla città di Cava, un intervento che ci porterà ad avere un nuovo centro più funzionale proprio per dare una risposta sempre migliore ai bambini e ai ragazzi e alle loro famiglie. Credo che sia importante per il nostro paese investire sui bambini perché i bambini sono il nostro futuro e quindi noi abbiamo la responsabilità di farli crescere, di curarli e la responsabilità che noi ci prendiamo è quella di poter far sì che ogni bambino esprima il meglio di sé, qualsiasi sia il suo punto di partenza. Le attività principali che noi svolgiamo sono l'attività di cura e di riabilitazione, l'attività di ricerca scientifica e l'attività di formazione. Quando parliamo di cura e riabilitazione parliamo di attività di riabilitazione principalmente che può essere svolta in maniera ospedaliera o deslospedaliera. Nello specifico qui a Cava dei Tirreni noi abbiamo un centro di riabilitazione che eroga prestazioni a ciclo diurno continuo e ambulatoriali. Le attività che li coinvolgono sono le attività riabilitative, le attività educative e anche l'attività didattica perché i bambini che da noi frequentano come diurni assolvono presso il centro anche l'obbligo scolastico. L'approccio che noi utilizziamo da sempre è un approccio di tipo scientifico perché è come dire curare la disabilità o approcciare la disabilità vuol dire anche capire quali sono le ragioni e quali sono i metodi migliori perché le risposte possano durare nel tempo e questi bambini e questi ragazzi possono esprimere il meglio. Questa attività di ricerca scientifica viene svolta presso i poli dell'IRCS Medea che è una sezione dell'associazione La Nostra Famiglia che si trovano in Puglia, Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia. La nuova struttura è una realtà che ci impegnerà molto per la costruzione dal punto di vista delle risorse messe a disposizione. Oggi lanciamo una campagna di solidarietà perché il territorio possa aiutarci ad arretare questa casa perché così noi ci chiamiamo la nostra famiglia quindi per noi le sedi sono case e è bello poter condividere con tutto il territorio l'allestimento di una casa in cui ci si prende cura dei bambini di questo territorio.